Sarà una giornata cruciale quella di lunedì per industria italiana autobus. L'assemblea dei soci, in vitali a Leonardo e Carson, dovrà valutare la ricapitalizzazione dell'azienda di Flumeri, alla luce della crisi di liquidità che di fatto blocca la produzione dei bus. Negli ultimi due anni la compagine sociale ha investito circa 50 milioni che però non hanno riguardato lo sviluppo del piano industriale ma i debiti nel frattempo accumulati con i fornitori. L'ultima crisi esplosa quando i soci hanno chiuso i rubinetti e la fornitura di materie prime più in Valle Ufida che nello stabilimento di Bologna si è di fatto bloccata. Sullo spondo vi è il governo dell'azienda. Fino ad oggi è stata in vitalia con il quasi 43% delle quote a dettare la linea. Leonardo, l'altro socio pubblico che detiene il 28,6% delle quote, non intenderebbe continuare a fare lo spettatore. Bene la ricapitalizzazione, questa sarebbe la linea del colosso pubblico a condizione che vi sia chiarezza sul piano industriale. In pratica, secondo i manager di Leonardo, non ha senso continuare a pompare risorse per industria italiana autobus per mantenere le cose come stanno, da cui l'ipotesi, tutt'altro che teorica, che nell'assemblea di lunedì gli equilibri del consiglio di amministrazione possano uscire modificati con un ruolo più definito e operativo proprio di Leonardo. In questo quadro non è da escludere l'avvicinamento al vertice dello stabilimento di Flumeri del presidente e amministratore unico Antonio Liguori.